Quello di ieri è stato un consiglio comunale con un corposo ordine del giorno che ha portato l'assise a protarsi ben oltre la mezzanotte. Tanti temi sul piatto, una richiesta di intervento sul tema degrado dei cimiteri urbani e qual è la reale situazione delle scuole fanesi, due interrogazioni del centrodestra che hanno aperto i lavori. Ma degli otto punti in agenda, due sicuramente, stando ai rumors della giornata di oggi, avranno un seguito nelle prossime giornate se non mesi. Di stampo diametralmente diverso e anche di segno sociale opposto, come sono opposte le reazioni in merito. Uno ha avuto la capacità di cementare le forze politiche e stiamo parlando della mozione presentata sempre dal centrodestra e passata con l'approvazione di entrambi gli schieramenti politici dell'ex convitto Vittoria Colonna per la sua trasformazione in un centro cure pediatriche palliative e centro polivalente sanitario. Un'approvazione che ha accolto il compiacimento dell'associazione Maruzza, che aveva presentato il progetto di recupero e che da anni si batte per un centro di questo tipo, unico nella regione Marche. L'altra proposta, proveniente invece dalla Giunta, di cui il relatore era l'assessore Marco Paolini, riguarda il regolamento sulla red urbano in centro storico. Per le situazioni preesistenti come ci si potrà regolare? Per le situazioni preesistenti si dovranno adeguare in un certo periodo di tempo, nel corso di anni, probabilmente non mesi, e quindi semplicemente adegueranno le loro strutture a quelli che sono questi regolamenti o anche a tutto quello che vorranno invece con tutta libertà progettuale proporre al Comune la sovrintendenza. Quindi nel rispetto delle norme e delle leggi, perché queste ci sono, c'erano prima, e ci sono anche ore, quindi vanno naturalmente rispettate.